Saluto anche da Farmacia Scienze del Farmaco, sono Luca Piemontese e iscrivetevi! Ciao, sono Maria Mastrodonato, vi aspettiamo al Dipartimento di Biologia, numerosi, ciao! Ci siamo anche noi, Biosscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutiche, venite da noi, Maria Teresa Volpicetta! Domenico di Bari, Fisica e ho detto tutto! Dipartimento di Matematica, Mirella Cappelletti-Montano, vi aspettiamo! Giovanna Grossi, Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, Geologia e Restauro e Conservazione dei Beni Culturali, venite da noi! Marcello Siniscalchi, delegato per il Dipartimento di Medicina Veterinaria, per la prima volta Open Campus, iscrivetevi, fantastico! Il tempo è bello, la compagnia è al top, stiamo benissimo! Ciao a tutti, Maria Lisa Deserio, ancora Fisica, vi aspettiamo! Ciao a tutti, Claudia D'Amato, Dipartimento di Informatica, Scienza e Tecnologia del Futuro siamo noi, vi aspettiamo! Buongiorno a tutti in questa fantastica e divertente giornata, Nicoletta di Taranto, Dipartimento di Chimica, anche noi vi aspettiamo e divertitevi! Piero Favia, Chimica, adesso rappresento, sono l'avatar di questo signore qui, Nico di Bari, siamo scuola di scienza perché noi siamo scienza e non fantascienza, vi aspettiamo tutti! Anna Paterno, Uniba e Campus, Uniba e 22 dipartimenti, vi aspettiamo tutti il 18 maggio online, ci sarà una nuova manifestazione di orientamento per conoscere tutta Uniba e tutto quello che Uniba comporta e significa per gli studenti. Grazie! Grazie!